Senta signora, se lei scoprisse che suo marito la tradisce, divorzierebbe? Dipende. E se fosse lei a tradire lui, in quel caso divorzierebbe? No, anche in quel caso dipende da tante cose. Ma quindi lei non divorzierebbe mai? Per quale motivo resterebbe con suo marito? Solo per interesse, quindi? E tu per quale motivo tieni a tutti e due braccia? Per interesse? Si dispari da quella manilla. A che serve la manilla? Devi scrivere? Fai lo scrittore? Vuoi scrivere ancora? Allora state zitto. Per interesse. Ti sei sfaventata? Sto scherzando! Sto scherzando! Sto scherzando! Grazie.